La cena delle beffe di Alessandro Blasetti è il terzo incasso cinematografico della stagione 1941-1942. Al primo posto, quell'anno, troviamo i Promessi Sposi di Camerini, seguito da Bengasi di Genina. Il film è ricordato nell'immaginario collettivo per due motivi, per la celebre battuta di Amedeo Nazari, ovvero E chi non beve con me, peste lo colga, e i 18 fotogrammi di Nudo di Clara Calamai. Il film esce nelle sale nel febbraio del 1942, ha un grande successo di pubblico e non ha dei tagli da parte della censura nella famosa scena di Nudo, ma viene applicato un divieto alla visione ai minori di 16 anni. Il film poi viene rieditato più volte anche nell'immediato dopoguerra e, come accadeva all'epoca, nei manifesti viene nascosto, addirittura proprio tolto, il nome di Osvaldo Valenti per via del suo collaborazionismo col fascismo dell'ultima ora. Il film è tratto da un dramma teatrale del 1909 di Sam Benelli, che era un autore molto noto all'epoca, e la sceneggiatura viene realizzata dallo stesso regista Alessandro Blasetti, assieme a Renato Castellani. La pellicola viene realizzata a Cinecittà e vengono sfruttate le scenografie del film La Corona di Ferro, sempre di Blasetti, che vengono adattate appunto alla nuova ambientazione rinascimentale. Nel film permane dunque un forte impianto teatrale quasi claustrofobico, proprio perché il film è tutto girato in interni. La trama riguarda la rivalità fra due famiglie fiorentine all'epoca di Lorenzo il Magnifico, e nel particolare fra gli scontri che avvengono fra Nero Chiaromantesi, interpretato da Amedeo Nazari, e Giannetto Malaspini, interpretato da Osvaldo Valenti, e entrambi si contendono una bellissima cortigiana che si chiama Ginevra. Amedeo Nazari con questo ruolo si impone nel panorama cinematografico dell'epoca. In realtà Nazari non fu molto contento della sua interpretazione e come ricorda Valentina Cortesi, che proprio in questo film ha uno dei suoi primi ruoli di rilievo, Nazari non ricordava mai le battute che doveva pronunciare e per questo aveva riempito il set di piccoli bigliettini. Osvaldo Valenti dà in questo film la prova più importante della sua carriera cinematografica. Questo ruolo lo ebbe come risarcimento da parte di Blasetti, che l'aveva colpito con una freccia sul set appunto del film precedente La Corona di Ferro. Nella parte di Ginevra troviamo la bellissima Clara Calamai, questa volta bionda in un ruolo ricorrente nella sua filmografia degli anni 40, vestita dal bravissimo costumista Gino Sensani che ne fa dei vestiti con delle interessantissimi trasparenze che lasciano intravedere le forme. In due piccoli ruoli appaiono anche l'attrice feticio di Blasetti, Elisa Cegani, e Luisa Ferida, che aveva conosciuto l'anno precedente sul set del film La Corona di Ferro, l'amore della sua vita, che era appunto Osvaldo Valenti. Le due attrici partecipano al film in amicizia e la Cegani ricorda che come pagamento Alessandro Blasetti regalò loro due profumate saponette, che era una merce molto rara nel pieno della seconda guerra mondiale. Per rimanere informato sugli ultimi caricamenti del canale i classici del cinema italiano ricordati di iscriverti e di attivare le notifiche così non ti perderai più i film in premier e i nuovi video di cinema italiano in pillole. Grazie e buona visione!